Non sono mancati riferimenti all'attualità del territorio nel consueto messaggio di auguri di Natale che il Vescovo, per il tramite dei giornalisti, ha voluto indirizzare a tutti i diocesani. Monsignor Alberto Tanasini ha fatto riferimento ai recenti eventi alluvionali, al territorio che lui stesso ha percorso durante la visita pastorale, ai fatti di cronaca che hanno sconvolto Rapallo e il Tiguglio intero. In un contesto colpito così profondamente, il Vescovo ha espresso un triplice augurio, che il Natale possa far recuperare il senso del mistero dell'uomo e del suo valore. Ha invitato a non perdere la speranza e la capacità di aiutarsi gli uni e gli altri come avvenuto durante l'alluvione. Infine, un augurio speciale per i giovani, che non solo in questo evento, ma sempre, si dimostrano uomini e donne del futuro capaci di infondere speranza e fiducia. Essi stessi, non solo con loro agire, sono stati motivo di speranza, ci hanno dato forza, ma ci hanno detto, chi sono davvero i nostri giovani? Non una generazione perduta, ma una generazione ben viva, capace, forte. Anche questo è un motivo per la nostra serenità. Sappiano che davvero sono preziosi per noi e il nostro augurio è che anch'essi sappiano sempre ritrovare quello slancio per la loro umanità che viene dal figlio di Dio fatto uomo, che è stato giovane come loro, che è sempre giovane con loro. Ecco, auguri a tutti. Siano momenti sereni, ma non di una serenità che passa, ma di una serenità che addolcisce il cuore, perché il cuore continui il suo cammino sostenuto da questa certezza. Niente ci può separare dall'amore del Signore. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti.